Ecco, questa è la polvere che si è accumulata durante la notte sul pavimento del mio salone per i fumi che fuoriescono dalle 2 alle 5 dalle ciminiere della Saras Chimica di Saroc, la famosa raffineria più grande d'Europa. Che cos'è questo veleno che noi respiriamo durante la notte quando stiamo boccheggiando con le finestre aperte?